Nuovo video della vita in città, quest'oggi iniziamo a costruire il nostro bellissimo acquario E non lo so Fede, secondo me sarà un progetto bello lungo, ci vorrà un sacco di tempo perché dobbiamo passare a sottoterra E la voglia Ma quando sarà finito penso che alzerà il livello dell'ozono in una maniera veramente incredibile Quindi ne verrà assolutamente la pena Allora, in primis io Fede ne abbiamo parlato diversi minuti Prima di iniziare questa rec per decidere dove avremmo potuto mettere E diciamo il nostro bellissimo parco acquatico, come lo chiamiamo? Un parco acquario, Stef, semplicemente Perché non è un parco acquatico Perché io vorrei, ti spiego Questo è uno zoo, però Ti spiego perché l'ho pensato Ok Allora, facciamo finta che sia qui, ok E tu vai sottoterra, c'è tutta un'entrata bellissima Vai sottoterra ed è tutta fatta vetrate E guardi, sopra di te, alla tua sinistra, alla tua destra e vedi pesci Esatto Ok, continui, continui, continui Espanderemo oltre questa montagna Si sale e si arriva ad una zona con la piscina gigante dove ci sono gli spettacoli Con i delfini, le balene, le orche Ho capito Ma per costruire una roba del genere ti ci vogliono vent'anni della tua vita Però sarebbe bellissimo E lo so Però adesso pensiamo una cosa per volte Iniziamo con l'acquario Poi vediamo se aggiungere qualcos'altro Posso sognare almeno su Minecraft? Sogni anche nella vita reale Anche nella vita reale fai questi ragionamenti che non hanno senso Quindi va bene uguale Muoviti a scavare, inizia La zona però che abbiamo deciso non è appunto quella Ma è questa qui Perché secondo me ci potrebbe star bene La mia domanda a fare è Rivolto verso lì Oppure rivolto verso qui? Ma io non volevo fare da quella parte Lì? Non ci siamo capiti Ah Quindi fare dove dobbiamo fare? Non ci ho capito più nulla Non riuscivo più a parlare Scusatemi Andiamo lì, ho capito Perché meno male che abbiamo discusso diversi minuti Mi sono confuso Abbiamo detto cosa dobbiamo fare qui Mi sono confuso Posso sbagliare Non posso sognare Non posso sbagliare Devo essere la persona perfetta È un disastro E per quello le cose io le costruisco tra un video e l'altro Perché a farle con te Stef succede sempre un disastro Sono già pronto con la palla Ok vai Dimmi dov'è Allora facciamo Simuliamo Allora Cerchiamo di Ragioniamo assieme Facciamo fare Qua c'è una stradina Quindi noi continuiamo la stradina da qua Secondo me sì E più o meno si ferma qui Sì Più o meno all'altezza Guarda Esatto Prova a vedere le misure Vedi se percepisci l'energia Mi metto qui sopra così si vede meglio Sì secondo me sì Perché lì ci sarà tutto l'ingresso Ma poi si va sotto Quindi non te ne puoi andare troppo lontano Capito Ok Però larghezza Quattro Cinque Sei Sei che cos'è Due È claustrofobico o no Allora Stef Io mi immaginavo una roba del genere Che qui c'è una sorta di entrata Quindi una scala E poi si espande tutto sotto Sì ma è una scala da due Ma dai Ma c'è Una scala da quattro È una scala da quattro Non di più Non di più È quello di cui volevo parlare Ovviamente dobbiamo poi tutta abbellire nelle pareti Certo Fare i gradini belli Un sacco di cose vanno fatte È un lavorone Hai una palla in più? Hai una palla in più? No Però le vende uno dei nostri bellissimi dello zoo E io non ho soldi in cambio Ne tieni Il problema di ogni episodio Penso che costasse dieci Se ricordo bene Ok vado Vado Allora quindi Quindi iniziamo a scavare un pochettino Non so quanto tempo ci vorrà fare questo progetto Io sinceramente non ne ho proprio idea Però so anche Secondo me è qualche episodio della serie Sarà anche un pezzo forte però ragazzi Sarà una roba veramente incredibile Allora per adesso facciamo tutto Poi vediamo se nel caso rimettere un pochino di dirt successivamente Secondo me ci possiamo pensare a stare facendo Quanto vorresti scendere Fere? Eh un bel po' Ok per ora quindi continuo Ma il punto è che se poi tu vuoi fare anche il tetto Cioè comunque gli animali acquatici devono avere tanto spazio Assolutamente Non bisogna andare tanto in profondità Ok Ovviamente Mi è venuta fame Anche io mangio una ciambella Sto mangiando un po' troppe ciambelle 23 bistecche Allora Ok Sto lavorando bene Fere? Sì 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 Vai 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 Sono un campioncino con la pala? Sei il campioncino scavatore Campioncino scavatore Non mi veniva in mente altro detto scavatore Volevo vedere qualcosa di più divertente Ma non mi è uscito niente di più divertente Che dici? Eh secondo me ancora Secondo me è tipo altri 5-6 blocchi Forse anche di più No Sta iniziando la cobblestone È ovvio che avremo Abbiamo qualcosa Fammi vedere il mio zenetto Io ho un piccone Però tu devi pensare alla terra a questo punto Io ho una zappa Divederci i ruoli Vai forza Allora stavi continuando da qui Perfetto Staci vorrà un'eternità Forse dovremmo anche chiedere aiuto a qualcuno Guarda Non so più Vede lo zoo Lo stiamo facendo tutto da soli È una questione d'onore E vabbè ma un aiutino Tipo che tu l'idea la metti E poi qualcuno ti ha aiuto Eh no 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 L'idea la metti E poi qualcuno fa No un cavolo Allora qui però serve un pezzo esatto di terra Perché sennò poi facciamo male Stiamo andando dritti Sì Opla È tutto dritto Opla Sì mi sembra proprio di sì Secondo me qua comunque Forse basta Scusami Ai che male Allora vado a rivedere la discesa dall'alto Ok Così decidiamo un pochino Dimmi tu Eh forse sì Più o meno ci siamo Dai ne faccio altri due Non eri convinta di questo forse sì eh L'ho sentito L'ho percepito È perché non riesco ancora a immaginarmelo tutto Lo sai che io quando costruisco Faccio le cose E poi le disfo Poi le rifaccio Poi le rifaccio E poi le rifaccio ancora Ma è ragionissima Fere Però Perché io non sono brava come Marche e Marcia a costruire Quindi faccio sempre un po' di disastri Ma guarda che secondo me il nostro giù è veramente carino Io penso che i consolini siano più che d'accordo E lo spero Che stiamo facendo comunque un bel lavoro Mi sto impegnando un sacco Anche se le cose non le so fare Quindi lo spero Allora Cosa mi dici? Sì secondo me va bene Quindi sarebbe a questa altezza qua Prova a tornare tutto su Eh ok Perché dai Eh se no secondo me poi diventa troppo Esatto Prova a guardare e dimmi un pochino Sì 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 Convinta? Secondo me va bene Ok Allora Quindi adesso dobbiamo iniziare a costruire Che poi in effetti ci possiamo anche alzare a livello di tetto Capito? Tu adesso vai dritto Sì E poi ti alzi Certo E quindi comunque possiamo sfruttare anche con lo spazio Ma possiamo fare grandi cose Perché questo è solo l'ingresso Certo Poi ti alzi Quindi sfruttiamo ancora tutta quella Ma per ora stiamo facendo un po' la forma dell'entrata Giusto per diciamo un po' delimitare La zona in cui verrà fatto tutto Poi dobbiamo costruire davvero tanto Di conseguenza è un lavoro lungo e faticoso Però guarda, secondo me è così Buco giusto un'altra linea Dà proprio l'idea Così ci ricordiamo esattamente delle misure Un po' del sistema che ci è venuto in mente E siamo più che a posto Guarda, che dici? Sì, se voi mettiamo un acquario qua Perché è l'unica cosa che ci sta al momento Quelli piccoli portati, capito? Quello che abbiamo in casa Allora, lo prendiamo da casa e lo mettiamo qua E dovevo fare una cosa Ah sì, la mia checklist Vediamo un pochettino D'altro c'è da fare oggi Decidere l'entrata e scavare sottoterra Poi comprare il vetro, riempire l'acqua Comprare i pesci, comprare gli squali Zona con piscina Ma i pesci sono già arrivati? Io mi sa che ne avevo... Ma forse no Secondo me non lo so Vabbè, tanto poi... Faccio la richiesta Sì, ma poi da qui è che finiamo di costruire tutto, Stef Sì, anche quello Penso di poter richiedere anche i coccodrilli Però i coccodrilli non possono stare solo in acqua No, certo Perché hanno bisogno anche di... Era perché parlavamo di cose comunque dell'acqua Però facciamo un solo recinto con la palude Certo, hanno bisogno di stare anche sulla terra Quindi dovremmo fare una zona sopra I coccodrilli sono proprio belli Mentre invece sotto nell'acqua dobbiamo mettere proprio pesci, pesci Allora, vediamo un pochettino Guadagni per adesso E altri 17 Sembra quasi fatta apposta Ferre direi che prima di andare via dobbiamo andare da mangiare agli animali Soprattutto alle pantere che quelle lì se non mangiano abbastanza Lo sai che si arrabbiano Ah, te la senti di tornare a darle da mangiare adesso? No, lo sai che ogni volta ha paura, Ferre Aspetta No, 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 no C'è qualcosa che non va C'è qualcosa che non va Ma non vedo niente, cosa è successo C'è una bambina dentro la gabbia, Ferre Oh, mio Dio Ma Steph si è vestita da tigre Cosa voleva fare la vestita da tigre lì dentro? Probabilmente gli piacciono le tigre Ma non le piacciono più Se rimane lì Ferre, dobbiamo entrare dentro Allora, mi serve una mano Hai qualcosa di dolce per tirare la bambina? Eh, fammi vedere Tieni, Stefo, delle caramelle Mi sono avanzate dal buffet Tieni, 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 tieni Ok Facciamo, tanto per ora le pantere sono tranquille Corro! No, Steph, abbiamo due secondi per riflettere, smettila Allora, Steph, io distrago le pantere Ferre, non ti fai sbranare, non è una buona idea Aia, che male, corro in tondo, Steph, pensa la bambina Usa le liane, usa le liane Tieni, tieni No, Steph, mi vanno malissimo Corri Allora, aiuto, aiuto Comunque le ho viste arrampicarsi anche sulle liane, quindi non serve a niente andare sulle liane Seguimi, seguimi Aiuto, mi sono inseguendo? Non ti stai inseguendo, mangia se ne hai bisogno Sì, 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 mamma mia, me l'ho lasciato bassissima, siete delle matte Maria, 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 vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni via Tieni, ti do da mangiare a distanza, mangia Ce la stai facendo, Steph? Siamo circondati, prova a passare in mezzo Ok, corri, corri, non ti stanno calcolando, vai Ok Perché Maria davvero riesce a non farsi notare vestita da tigre, porca miseria, riesce a ingannarle Steph, ho buttato un sacco di bistecche così almeno sono distratta dalla carne No! Scappa, scappa Sto correndo Ok Ce l'hai fatta Fere, tu pensi a sopravvivere? Sì, 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 sì Fai uscire la bambina Fai uscire la bambina, Steph, io non posso resistere per molto Muoviti, Maria, muoviti Ma fai quegli accidenti di porte Ripiazzale, ripiazzale Aiuto, aiuto, è vero, lo dobbiamo ripiazzare Vai, 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 anche se sono storte Funzionano, sì, funziona, lascia tutto chiuso Porca miseria, Maria, mandati sempre una cosa da fare Com'è fatto a entrare poi, Steph? Non lo so, Fere Aiuto, Steph, sto malissimo, devo mangiare un sacco Guarda, mamma mia, mi hanno mozzicato tutte le gambe e tutte le braccia Mamma mia, che paura Ma però il leopardo è facile dargli da mangiare Se l'avessero sbranato ci avrebbero fatto chiudere lo zoo, eh E direi Fortuna che se vestita la tigre li ha davvero ingannati Ah, tu seguimi che ti lasciamo Vanno d'accordo con i cuccioli di tigre Perché sicuramente l'hanno scambiata per un cucciolo di tigre Lo lasciamo alla reception e poi cerchiamo di scoprire chi cavolo è Tanto arriveranno i genitori Arriveranno i genitori Dimmi te, questi genitori che non seguono i bambini, mannaggia Che cosa sta facendo? Sta pure giocando adesso Esatto, si veste a giocare con i ranger Mamma mia Vabbè, ci penseranno i ranger, Steph, dai Che paura Sono affidabili tanto loro A questo punto, Ferre, io direi Possiamo andare a lavorare Ok Ma ogni volta Io dico Perché continuiamo a non prenderci il quad? Che problemi abbiamo? Non lo so Ci piace correre, Steph Stare all'aria aperta A me non piace correre Sai cosa stiamo andando a fare? Non lo so Voglio andare a sistemare in casa nostra perché non abbiamo ancora messo il pianoforte E volevo piazzare il pianoforte in casa Perché secondo me ci migliora un sacco la casa e ne vale la pena Anche secondo me Che dici, sei d'accordo? Sì, sì, sì Quindi andiamo un attimino a sistemare lì Dobbiamo togliere tutte le ceste C'è un disordine veramente incredibile Siamo veramente disordinati Tu pensa che quella ceste c'è dalla rapina in banca Da prima della rapina Un mese e mezzo fa Dai preparativi della rapina Una roba infinita Mannaggia Quanto tempo fa è stato ormai? Neanche me lo ricordo più Almeno, almeno Forse anche di più Forse un mese e mezzo Allora, vediamo un pochettino Spostiamo la crafting table Di sicuro Ok, spostiamola però non la rompere Poi, prendiamo questo Spacco questa cesta Ma questa è tutta roba mia Eh, no, anche roba mia Ah no, è roba tua Io non avevo queste cose in inventario Tutta roba tua, arrangiati Dove possiamo mettere questa cesta? Qua? Guarda, qua comunque è un punto carino Sì, puoi mettere anche la seconda Perché è così completa Però devi riprenderti tutto, Steph Sì, un attimo Io in effetti le mie cose Forse sei che le avevo già riprese Allora, vediamo un pochettino Perché io sono una brava persona Non sono come te, Steph Ma secondo me Mi stai accusando ingiustamente Allora, visto che ci ho avanzato lo specchio E io sinceramente non sono riuscita a metterla Da nessuna parte del bagno Perché c'è il grandissimo passaggio segreto di Steph Io lo vorrei mettere all'ingresso Guarda, qui Cosa ne pensi? Ci può stare Non ti piace? Di solito gli specchi stanno all'ingresso della casa Non è proprio un signor specchio quello, eh Eh, però l'ha scelto Mark Cioè, sembra un po' uno specchio della casa della nonna Diciamocelo Magari ce lo facciamo cambiare? Eh, non lo so Tipo andiamo, tieniti A te piace? Non tanto, però Ma non voglio criticare, dai, è un regalo Non si criticano i regali Che persona maleducata che stai Ferre, lo stiamo facendo in silenzio Aspetta, facciamo un'altra cosa Lo sentono solo 400.000 persone Cioè, non è che l'abbiamo detto Qui No, anche peggio, porca miseria Allora, vedi, anche Pepe Ferre è il peggio di me poi Appena parte Allora Mi è venuta anche un po' di fame Qui Guarda, in camera del letto però è il meno peggio Sì Per ora sembra quasi un quadro Proprio se vuoi piazzarlo Lo lasciamo lì per ora Capito che ci tieni Lasciamolo lì Guarda, questo lo buttiamo qua Perfetto Allora, dovrei aver fatto tutto Dovrei aver sistemato È proprio carino Le ceste ci sta anche bene Ha proprio migliorato Sì, 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 molto carino E No Cosa? Non ci sta Fammi vedere, dammi No, 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 aspetta Io volevo mettere di lato così Traverso Penso sia colpa di questo Ho bucato un po' troppo No, Steph Tranquilla, tranquilla Cos'hai fatto? Vedi Ok, perfetto Ti prego, dimmi caragione Sì Guarda Eh, così lo volevo Non potevo metterlo perché c'era il pilastrino qua Ho tolto quello e guarda che bello Quando ti dicevo Che bello Che l'ho chiesto a Marco E gli ho detto Cavolo, però se ci dai questo Migliora troppo È perché sapevo che era proprio un pezzo perfetto per questa zona Non lo struisce neanche troppo il passeggio No, 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 no Il passeggio Per scendere quindi è perfetto Ecco che si è lanciata di sotto E si è schiantata bruttamente Ma lo meritavo di lanciarmi di testa dopo che mi incanto Dato che ci siamo Forse direi di andare anche a chiedere un attimino i soldi a Joelle Come sempre il nostro fantastico segretario Perché secondo me siamo qui Ne approfittiamo adesso Piuttosto che poi farlo successivamente Stef, dovremmo anche cambiargli la postazione Cioè ti sembra normale che il tuo segretario stia sottoterra Spera, ma non hai ancora capito una cosa? Nel tuo bagno, Stef Spera, ma tu non ti devo spiegare tutto A parte che è più in alto A parte che mi sono persa È più in alto Stef, devi mettere di blocchi diversi per ricordarsi Guarda Ma così la gente lo capisce Sono qui Qui Porca miseria Qui Stef, ti dicevo, dagli un ufficio C'è il mio ufficio Mettevolo nel mio ufficio Fer, Fer Allora, dove siamo? Ma a Joelle non piace Dove siamo? Sì, Stef, ho capito che è la tua stanza delle televendite Però, Joelle, un dipendente Quando entreresti Non può stare sotto il tuo bagno, Stef Nella stanza delle televendite se non ci fosse Joelle qua Sei una persona terribile Quindi io, con la scusa di venire a prendere i soldi In realtà, sto facendo delle televendite in dirette Questo è marketing Però, Stef, io ti do un consiglio Dovresti spostarle in questa stanza qui Allora, se vuoi fare una bella televendita Dovresti dirgli, stai qui Così tu entri qua Fai finta di niente Ma in realtà C'è una Fer, ti ho detto che per questo Mi sto caricando le energie È tipo Goku Quando prepara la sfera Incredibile gigante Bellissimo Che batte tutti Sono così in questo momento io Ci dicono di dormire Dobbiamo dormire finché Scusa, Joelle Abbiamo bisogno un attimo di te Scusa, Joelle È tardi Non ho voglia di risalire di sopra Buonanotte, Joelle Io sono una persona che dorme ovunque Quindi Vabbè, allora faccio accompagnare a Joelle Infatti Forza, ci sei messa a dormire, Fede Sì, sto dormendo L'hai fatta È un po' stretto sto posto Non trovavo spazio Però, una bella dormita con la televendita Devo dire che è un'esperienza che non avevo mai fatto Oh, perfetto Ti puoi dire di averla fatta Joelle, grazie mille per i soldi Sai cosa non mi sta bene? Che ci dà sempre lo stesso tanto Nel senso Che non abbiamo più migliorato i nostri negozi E ora un po' di riprenderci sotto questo punto di vista Lo sai che ci hanno anche consigliato nei commenti questo L'ho letto di portare a 5 stelle il negozio di animali Eh, secondo me ne varrebbe la pena Salirebbe mille di guadagno Esatto, dicono Se portate anche quella a 5 stelle Comunque sono dei guadagni aggiuntivi L'ho letto nei commenti Aveva anche tanti like, Stef Quindi vuol dire che molti sono d'accordo Ok, allora Adesso volevo andare un pochettino Fede, possiamo togliere questo pezzo? No A me non piace proprio Quando sistemeremo la cucina Fede Perché abbiamo una doccia? Perché abbiamo una doccia in cucina? Soprattutto da quanto tempo c'è? Tu l'avevi mai vista? No Non c'era questa Ma cosa sta succedendo? No, chiaramente non c'era Aspetta, ho un'idea Fammi fare a me Allora, facciamo così Ma non spaccare i vetri, Stef Facciamo così Se tu la metti qua Ci sta meglio Aspetta che ovviamente Opla Ma secondo me l'ha aggiunta qualcuno Dici? Sì Però Stef Al massimo la mettiamo in cortile Perché La doccia A fianco la cucina Non si può vedere È terribile anche in cortile Tipo che ti fai la doccia prima di entrare in cucina No, no, no Ma tu non mi hai capito Noi Compriamo un po' di questi blocchi di legno Allarghiamo qua Facciamo qua Sondiamo e rendiamo il bagno grande In effetti anche tu hai ragione È un'ottima idea Arriviamo fino a qui Sì, sì, sì Vero? Sì, sì, sì Mi piace Spacchiamo questi Oggi Stef Dopo aver costruito due scalini sotto terra È diventato Dobbiamo andare Dobbiamo andare a comprare la legna e la falegnameria E che colore è questo? Lo spruzzo, no? Sì Ok, andiamo Forza, forza, forza Devo perderti marrone scuro Grazie Mi dici che colore è Mi viene in mente il colore Non mi viene in mente il dico Fere, sto facendo una cosa terribile Guarda cosa è mano Un libro Hai apprezzato? Cammina Non l'hai apprezzato? No, per niente Dai Fere Corri, vai Fere Più veloce Soffia per andare più veloce Muoviti Parcheggio qua Perfetto Allora, vediamo una legna Avrà anche i tipi normali Salve Raffaello Allora, sì, sì, sì Ce l'hanno Però questa è non trasformata Questa è trasformata No, è tutta strana Vabbè, la prendiamo e la trasformiamo Prendiamo e la trasformiamo Sì, 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 sì Allora Dov'è Spruce? Ma io dico tipo 20 blocchi ci bastano Ma visto che siete dei falignami Vendete un'ascia No, purtroppo no Non ce li hanno Allora Chi vende un'ascia? Al Fabbro? Eh, mi pare proprio di sì Ce li è ancora Franco, secondo te? Vuoi andare a comprarli al volo? Ebbè, cosa vuoi andare? A modificare la casa a mano, Steph? Abbiamo bisogno di un'ascia Si potrebbe fare Dammi un po' di soldi Dammi un po' di soldi Andiamo assieme Forza Ok, perfetto Boh Perché ti vorrei Andiamo da Franco Secondo me ce li ha ancora lui le asce Dai, dammi un po' di soldi Compratela un'ascia Dammi soldi Quanto vuoi che costi, scusami Non li cambio, Steph Mi vai a cambiare i soldi Non mi corro più dove è Franco Franco è qua, giusto Dall'altra parte Ho sbagliato Dall'altra parte, sì Non ci andiamo a talmente tanto tempo Da Franco, povero Secondo me stava Qui, qui, qui Franco, ci manchi Ciao, come stai? Dai, finalmente ti portiamo un po' di soldi Sei contento? C'è anche il fratello Allora, voglio comprare degli oggetti Sì, 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 sì Quindi un'ascia, giusto? Sì, un'ascia Assolutamente sì Ah dai, costa anche poco Dai, costa pochissimo Allora, quindi Franco ha tenuto prezionesti Voglio comprare degli oggetti E ci prendiamo questa Tra l'altro la pala costa meno qua Però le monetine io in questo momento non ce le ho Quindi queste non le prenderò Tieni Dai, lasciamo così Tieni, 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 tieni Ok, perfetto Andiamo Allora, dovevo fare qualcos'altro Ho pensato io Non lo so Se l'hai pensato e non me l'hai detto Non lo posso sapere Eh, l'ho pensato a voce bassa Evidentemente, vero? Ma l'hai pensato senza dirlo Vai Andiamo a casa a fare il bagno gigante Andiamo Guarda che questa è stata l'idea della giornata Sono d'accordo Meglio dell'acquario No, non esageriamo, dai Stai buttando giù un muro Contato l'idea della... Vabbè Vabbè, oh Cioè, era l'unico difetto della nostra casa Mettiamolo Quel bagno striminzito Sì, assolutamente Sai che dovremmo anche modernizzare un po' i blocchi Effettivamente Sono d'accordo Sarà ora di renderlo qualche legno un po' più pregiato Così Ok E poi leviamo questo Esatto E poi spostiamo la doccia Adesso la devo smontare, Steph È qui il lavoro di idraulica Ok, perfetto E ci allarghiamo Secondo me dobbiamo levare anche questi E tipo fare così, così Questi qua, giusto? Esatto Ne ho bisogno di altri Opla Ok, aspetta che entro in bagno Anche se poi Cosa c'è? Questo così Oh cavolo, però ha rotto il pavimento Dove? Abbiamo di nuovo del carpet Aspetta, aspetta, aspetta Ripariamo così Quello che non vedi non esiste, Steph Quello che non vedi non esiste Allora, prova a venire Ok, vediamo come è diventato il bagno Allora, dobbiamo sistemare un po' Assolutamente Tipo Allora Questo secondo me se ne deve riandare in fondo Ok Insieme Dove stava la carta igienica? Stava fluttuando Eh, l'orota E dammela Aspetta, ci penso io Tu pensa a fare il resto Perché devi pensare all'unica cosa che ho io? Però il problema È che siamo sempre davvero stretti È molto stretto Sto caduta nel tuo passaggio segreto Però È comunque migliorato Allora Tavolino Aiuto Secondo me Come hai fatto? Non lo so Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Allora, vediamo un pochettino Allora, stiamo rimettendo tutto Sì, ripensiamo a tutto Forse dovremmo allargare No, se ci allarghiamo di uno Andiamo troppo attaccati al divano Allora Usa l'ascia Spacca questi blocchi Aspetta però Qui ci possiamo mettere la doccia Eh, ma spacca almeno questo slab Perché? È terribile questo gradino Dici? Sì, mi uccide l'anima Ok Facciamo così Guarda, meglio Perfetto E poi mettiamo Sopra La parte alta della doccia Eccola qui Il soffione Perfetto Guarda, sono i nomi tecnici Poi Vediamo un pochettino Il lavandino Lo andrei a mettere qua in fondo Sì Ok Quindi piazziamo il lavandino qua Poi dovrei avere Sempre io Questi Il rubinetto Perfetto Poi ho sempre io L'asciugamanino Ok E manca giusto Da piazzare Il I cose degli spazzolini Con il tavolino Che però Secondo me Non ci sta a fare nulla Perché Guarda Secondo me siamo giusti così Sei d'accordo Com'è Sì A meno che Non metti il tavolino Affianco agli asciugamanini Gli asciugamanini Metti più in alto No Ma sarebbe brutto Allora Teniamoci il tavolino Per il soggiorno Tipo Però scusami Questa perché Metterla in alto Se la posso mettere qua A questo punto Non metti il tavolino Bello così Non metti il tavolino Oh Finalmente abbiamo un bagno Che è almeno Ma ti stai facendo la doccia Ecco cos'era il rumore Cosa pensavi Sto succedendo Non lo so Fede lascia quel tavolino Basta Renditi No ma guarda dove l'ho messo Dove l'hai messo Qui Fede È orribile Grazie Dammi il tavolino Lo mettiamo fuori Mettiamo fuori Il tavolino da esterni Fuori lo posso accettare Dai il bagno è molto più carino Devo dire che almeno abbiamo guadagnato Un po' di spazio Non sembra più un bagno Messo lì solo per farci Un passaggio segreto Per le malefatte di Steph Molto carino Mi è venuta un'idea Hai un piccone? Sì Rompi E uscirà terribile Rompi 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 Ecco A posto Qua è dove ti metti a tagliare Dai Dove ti metti a tagliare le cose È orribile Qui Lascialo lì A me piace Andiamo via Steph Lascia Steph lo ti guarda Stai guardando Lascia sto il tavolino No Gli spazzolini Allora Gli spazzolini In cucina No però Porca miseria È bello quel tavolino Allora cerco di posizionarli in bagno Dopo lo specchio da nonno Anche il tavolino da nonno Abbiamo adesso Guarda Mannaggia Non ti sopporto più A me Non sono qui nel davanzale Peccato Era un ultimo posto Io non sopporto più Ci servono un po' di quadri Io non ti sopporto più Raga Noi Per questo episodio Deve che ci possiamo fermare Prima che inizio a litigare Con Ferre brutalmente Per colpa del bagno Speriamo che questo episodio Vi sia piaciuto Tra un episodio e l'altro Lavoreremo duramente Al nostro acquario Non lo termineremo Chiariamoci Ma iniziamo a portarci avanti Facciamo un bel tunnel Mettiamo un bel po' di vetro Probabilmente mettiamo già l'acqua E poi cercheremo Di andare a piazzare gli animali Quindi i pesci Gli squali Eccetera eccetera Tutti assieme Anche se penso che Niente squali Che pesci e squali Siano in punti diversi Tu metti gli squali Io metto i serpenti Ferre Tu hai già messo Gli serpenti No 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 Non in casa Nello zoo È molto peggio in casa Mi interessa Pensa se ti svegli E c'è lo squalo Non può Non c'è acqua Metto una piscinetta Non puoi Mi sveglierei Perché sento l'acqua Quindi sarei già scappata Non puoi Sono imbattibile Ci prendiamo così Qua sotto come sempre Con per altri video Iscriviti al canale Cappellina E ci vediamo Nel prossimo video Ciao ciao Ciao